Grazie 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 Grazie. 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 Carica subito il gomento, eh? Non battere il salto, così puoi attaccare il raggio. Puoi portare... Dario, porta il bacino avanti, sempre qui. No, no, rimaneva. No, potrebbe essere cambiato. Aspetta, lo prendo. La palla. Dario, stai coprendo la palla. Tu puoi sentire, finisci da un vento. In avanti. Vai, 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 vai. Non c'è qualità? Non c'è qualità? Non c'è qualità così. Bella. La venda flotando. Ok, comincia. Dario, comincia. Velo più alta. Si attacca. Mi attacca. Mi attacca. Oh, attacca. Io zinco. Devi tirare. Sì, è fonte. Grazie. 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 Lancia. Piede gomita colpisce la palla. E farà altro. Non avere fretta. Guarda le tipistiche di Luca. Come lui le fa bene Marcani. Lancia. Fa rinforza. Si apre e colpisce. Non unire tre gesti in uno. Ok. Senza fretta. Guarda le tipistiche di Luca. Prende tutto il lancio. Ok. Lancio. Accompagnano fino in fondo. Non scattare. Accompagnano fino in fondo. La palla è già scena. Si dice che è una situazione dove la palla è più bassa per voi. Quando lanci. Mentre stai saltando. Mentre saldi. Questa è già carica. Tu salti. Carichi. La palla è già qua. Chiaro che va bene. Mantricima il caricamento. Ok. Grazie. 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 È un idraulico è. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Batta a tutti scherzo. Il nuovo team. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, Dario. No, sono stato mentre sto per fare una cosa. No, ci penso troppo. Ci penso troppo? Per fare come Sergio Serini, eh. No, no. No, no. No, se non ci sono, se non ci sono, se non ci sono. Tu puoi chiamare la zona, via. Tu puoi scappare dalla palla. Eh? Puoi scappare dalla palla. Sì, sarà tornato io. 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 Grazie. Grazie. Grazie.